Grazie a tutti Devo dire che questa nostra creazione che abbiamo messo su in questi mesi è stata un po' piccola e credo che sia stata apprezzata e questa sera i vostri applausi lo hanno dimostrato. Quindi grazie a tutti voi per la vostra partecipazione e il vostro calore che ci dà energia e forza. Grazie mille. Quindi chiedo ma lo volete avvisso? Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.